Si spaccia per un prete, clona la mail della scuola dell'infanzia e invia ai residenti di San Giorgio delle Pertiche richieste di denaro per presunte spese straordinarie. Peccato che il parroco in questione, attivo nel comune dell'Alta dal 1991 al 2009, sia morto lo scorso aprile. Per fortuna in pochissimi sono cascati nel raggiro. Sono iniziate le richieste di chiarimento all'asilo da cui partivano le mail e la direttrice ha denunciato l'incresciosa vicenda ai carabinieri di Campo San Piero. Sarebbe il secondo episodio che coinvolge un prete. Pochi giorni fa era stato clonato il profilo social del parroco di Vigonza ed erano state avanzate richieste di finanziamenti per un fantomatico orfanotrofio. In questo caso i parrocchiani avevano capito che si trattava di una bufala ed era scattata la segnalazione alle forze dell'ordine.